In carcere neanche un prete per chiacchierare. Questa è la citazione presa da una canzone di Adriano Celentano del garante delle persone prive della libertà personale della provincia di Brindisi, Bruno Mitrugno, per dare il quadro della fase 2 nel carcere brindisino. Per gli istituti di pena infatti restano le terre e prescrizioni che riguardano il non ingresso in carcere dei volontari. Riprenderanno solo, sia pure con nuove modalità anti-contatto, gli incontri con i familiari, un solo colloquio con i parenti, con la discrezionalità del direttore dell'istituto, dal 19 maggio al 30 giugno. I volontari e gli operatori della società civile, attraverso il loro impegno negli istituti di pena, realizzano progetti, tracciano percorsi di crescita per le persone detenute e c'è bisogno di restituire umanità all'interno delle carceri. Ci sono persone prive in questo periodo anche della vicinanza del cappellano, un cuore che ascolta i pesi altrui. Per il garante, in alcuni istituti di pena sono state autorizzate le attività scolastiche in videoconferenza, che stanno cominciando faticosamente a funzionare. È un modo, questo, che potrebbe aprire grandi possibilità, soprattutto per ampliare gli spazi dello studio e dei percorsi rieducativi. Percorsi che in questo periodo a Brindisi sono andati all'incontrario, con i detenuti del carcere che con i loro risparmi hanno comprato viveri nello spaccio interno all'istituto per donarli alla Caritas, un segno di grande umanità e allo stesso tempo provocatore di sorde coscienze, secondo il garante Bruno Mitrugno. Grazie a tutti.